Avrebbe certamente del clamoroso quanto abbiamo raccolto ieri, quanto è arrivato in redazione nella giornata di ieri. Non abbiamo parlato ieri perché il focus specifico era la partita contro l'Empoli, vogliamo parlarne oggi. Sembrerebbe che, e questa è la notizia, che nei giorni scorsi ci siano stati dei contatti proficui tra la dirigenza dell'area tecnica rossoniera, tra Paolo Maldini, Ricky Massara e l'entourage del calciatore per provare a portare Dries Mertens, attancante belga classe 87 del Napoli, a parametro zero. Nella prossima stagione. Sarebbe un'operazione clamorosa per il Milan perché ricordiamo quanto Dries Mertens sia legato al Napoli, quanto sia legato alla città e ai suoi tifosi. Ma il giocatore, ricordiamo, è scadenza di contratto con il Napoli e Spalletti non lo considera in questo momento un giocatore titolare, non lo considera una pedina fondamentale nello scacchiere del Napoli e gli preferisce lì davanti nel modulo 4-3-3 come punta Ozyman. E quindi De Laurentiis avrebbe, in qualche modo, visto anche l'alto rendimento di Dries Mertens al Napoli, avrebbe offerto un contratto da Dries Mertens, ma a cifre più che dimezzate. Si parla di circa 2 milioni e mezzo. E sembrerebbe che in questo momento il giocatore che percepisce 4 milioni e mezzo non abbia ancora dato l'ok al rinnovo, ma che si starebbe guardando attorno, avrebbe dato mandato ai suoi procuratori, al suo entourage, di valutare altre offerte. E da qui sembrerebbe che ci sia stato l'inserimento del Milan e ovviamente Milan che l'anno prossimo ripartirà da chi? Ripartirà sicuramente da Olivier Giroud, bisognerà vedere il futuro di Zlatan Ibrahimovic, Lazetic mi dicono dovrebbe andare in prestito e quindi Milan potrebbe cercare un attaccante, una punta low cost per completare il reparto. Le due idee potrebbero essere il Gallo Belotti, quindi alcune fonti dicono che addirittura ci sia già un accordo di massima con il giocatore, potrebbe arrivare anche Dries Mertens. Dries Mertens che potrebbe giocare anche tranquillamente trequartista fantasista dietro le punte, magari con due esterni molto veloci che possono fare in alcune partite anche entrambe le fasi, molto bene, e quindi sembrerebbe che piaccia tantissimo. E sembrerebbe addirittura che Paolo Maldini, Ricky Massaro e Evan Gazzidis abbiano prospettato al Belga già un'offerta economica. Si parla di circa 4 milioni netti a stagione per un anno con opzione per il secondo. Quindi potrebbe essere questa la trattativa che potrebbe portare Dries Mertens al Milan. Un'offerta da 4 milioni, quindi 500 mila euro in meno rispetto a quelli che percepisce Napoli, ma molto più alti, un milione e mezzo in più rispetto a quello che gli ha in qualche modo offerto il Napoli come rinnovo di contratto. Sono sicuramente giorni di riflessione per Dries Mertens. Potrebbe il Milan quindi regalarsi un colpo importante per la prossima stagione e come abbiamo sempre detto, abbiamo già parlato tantissime volte nelle scorse settimane, il reparto offensivo, la trequarti rossonera, ha bisogno di gol, di imprevedibilità, di talento, di giocatori capaci di saltare l'uomo, di mandare in rete i compagni. Dries Mertens, un giocatore che ha battuto tantissimi record all'interno del Napoli, della storia del calcio Napoli, potrebbe essere sicuramente un colpo importante. E sì, un giocatore di 34 anni non ha mai avuto infortuni particolarmente lunghi. Da quando è a Napoli è un giocatore ancora in salute e un contratto annuale, in due anni potrebbe sicuramente regalare al Milan un giocatore importante, un elemento in più lì davanti. Vedremo se questa indiscrezione, se questa notizia che ci è arrivata ieri, che è uscita, trapelata dall'ambiente rossoneri, verrà confermata nelle prossime ore con altri contatti o con notizie direttamente alla dirigenza dell'area tecnica rossonera. Vedremo, una cosa è certa, Dries Mertens è un gran giocatore, mi piacerebbe vederlo con la maglia rossonera. Fatemi sapere cosa ne pensate e come sempre, se è piaciuto questo video, vi chiedete di mettere mi piace, di condividerlo, di iscrivervi al canale YouTube di Rubrica Rosso Nera.